Quello che facciamo noi non è altro che scoprire talenti, talenti italiani. Oggi abbiamo avuto incarico dal governo tedesco per portare in Germania le migliori start-up italiane. Siamo partiti da un bando che ha tirato dentro 90 start-up, non early stage, ma start-up che hanno un TRL abbastanza elevato. Oggi siamo qui al Baio di Pianetto, in questa spettacolare cornice, per pitchare con 25 start-up. Due di queste andranno a Berlino il 10 novembre a incontrare investitori tedeschi. Sicuramente noi abbiamo un grande brand Italia, le nostre start-up hanno un riconoscimento estraneo e importante. La nostra missione è quella di internazionalizzare. Facciamo questo ogni giorno, cerchiamo dei talenti, dei talenti che possono realmente scalare. E quello che diamo noi da acceleratore è tutto quel boost che serve loro per andare presto al mercato. Quindi la parte finanziaria, la parte proprio di competenze. Quindi noi quello che facciamo è trasferire le nostre competenze, le seniority del nostro gruppo, ai giovani start-up che non sono più magari gli smanettoni che ci immaginiamo, ma è gente che già viene dalla società di consulenza, che ha individuato un bisogno e da lì ha portato avanti una start-up. Sono start-up che sono al mercato, che fatturano. Siamo stati davvero molto lieti di ospitare Digital Magic con questa iniziativa dedicata alle start-up italiane, che poi andranno anche a livello internazionale in Germania a portare dei contenuti che sono usciti da questa giornata di lavoro come vincitori. Per noi è comunque davvero qualcosa che ci rende orgogliosi di poter affiancare. Credo che nell'imprenditoria sia fondamentale l'innovazione e oggi qui si è parlato di innovazione all'ennesima potenza. È un qualcosa che serve, che farà crescere. Ormai non è più sufficiente la normale amministrazione o il normale aggiornamento che un imprenditore o che un'azienda tiene del mercato, ma è necessario avere un pensiero laterale, avere un pensiero innovativo, pensare fuori dagli schemi per poter essere più competitivi e portare a casa dei risultati, dal punto di vista anche di business, più importanti in un tempo limitato rispetto a quello che è la normalità. I tempi corrono e anche le aziende devono adeguarsi a questo nuovo timing. È una giornata molto interessante e dei lavori sicuramente molto validi che servono dal mio punto di vista a unire sempre più il mondo dell'innovazione al mondo corporate, al mondo dell'impresa. L'obiettivo secondo me è quello di creare un bridge proprio tra l'impresa e l'innovazione e le start-up e viceversa, tra le start-up che devono guardare alle imprese in maniera concreta su quelle che possono essere sviluppi, quelle che possono essere nuove idee e nuovi progetti, che secondo me ormai non è più una desiderata, è un must, cioè qualcosa che secondo me le aziende e le imprese devono cercare perché altrimenti non sopravvivono. Sono molto contento di essere qui perché ho la possibilità attraverso Digital Magic di conoscere nuove realtà produttive o potenziali produttive del territorio siciliano anche se poi alla fine ci sono anche di altre regioni. Ringrazio chi ha organizzato questo evento perché è un modo per creare networking ed è uno degli elementi che noi come Invitalia stiamo cercando di sviluppare oltre a gestire fonde e quindi a derogare contributi. L'obiettivo degli ultimi anni è proprio quello di implementare i servizi a favore sia delle start-up che degli stakeholder che sono impegnati nello sviluppo del paese. Digital Magic fa parte del sistema Invitalia Start-up che è un network che è nato quattro anni fa e che vede coinvolti i principali attori del sistema innovativo italiano da incubatori, acceleratori e business angel e ci danno la possibilità appunto di arrivare sui territori, di conoscere gli imprenditori e quindi di promuovere anche quelli che sono gli incentivi e le opportunità che offre Invitalia come veicolo del Ministero e quindi del pubblico. Oggi c'è una competizione, spero che chi vincerà abbiano la possibilità appunto di avere un'ulteriore opportunità come Invitalia, ovviamente noi ci diamo la nostra disponibilità per incontrarli, per capire se ci sono elementi per applicare con i nostri incentivi e in generale per creare e diffondere la cultura d'impresa. Oggi siamo qui per presentare il nostro progetto di fronte a una platea estremamente interessante sia di enti istituzionali che partner pubblici e privati e cerchiamo di portare proprio il nostro progetto, la nostra innovazione in quello che è un mercato, quello delle travel activities ed experiences dominato dai marketplace e noi portiamo un nuovo progetto che è basato invece su un modello retail. Noi oggi vi presentiamo un progetto rivoluzionario che vuole dare a tutte le strutture B&B uno strumento per trasformare le ospitalità dei clienti in ricavi per l'host. Veniteci a vedere che è una cosa veramente bella. Il sito è www.bmbmate.it Grazie. 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 Grazie.